Tutti a terra! Tratto da un'assurda storia vera. Questa è una rapina! Hai disattivato le videocamere. Ti sembro un idiota? Erano ostaggi. Tutta la Svezia vuole sapere come ci si sente a essere bloccati lì con dei criminali. Non è così male. Diventeranno complici. Vi fidate di lui? Molto più che della polizia. Ethan Hawke. Numirapaz. Mark Strong. Ok, devo uccidere qualcuno. Cosa? Rapina a Stoccolma. Dal 20 giugno al cinema.